Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con il blitz dei carabinieri in una azienda ora fa i lavoratori erano irregolari, stangata per l'imprenditore. Sentiamo. Gli operai sono tutti risultati irregolari, di questi 15 anche in nero. La ditta è stata così chiusa, l'amministratore denunciato e per lui arriva anche una stangata da 200.000 euro. Questo il bilancio del blitz dei carabinieri in un'azienda ora fa di Arezzo. I militari sono intervenuti nel corso della notte quando l'attività lavorativa era in pieno corso. All'interno dello stabilimento in via Francesco Baracca c'erano 34 persone all'opera, risultate tutte impiegate irregolarmente, di cui appunto 15 in nero. La proprietà è riconducibile a un 31enne bengalese e gli operai sono tutti suoi connazionali. L'azienda non ha un brand con cui commercializza i suoi prodotti, bensì lavora per conto terzi, realizzando semi lavorati in oro, argento ed altri metalli preziosi. Assieme ai militari questa notte erano presenti gli operatori dell'Ispettorato del lavoro di Arezzo e dell'Inps che hanno rilevato anche numerose violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Denunciato il 31enne titolare della ditta, assieme ad altri tre lavoratori extracomunitari, risultati non in regola con il permesso di soggiorno in Italia. Per l'amministratore è anche scattato il provvedimento di sospensione dell'attività, conto salatissimo infine da pagare per quest'ultimo oltre 200.000 euro tra ammende, sanzioni amministrative e recuperi previdenziali. Sono infine ancora in corso accertamenti per meglio delineare le violazioni riscontrate. Scontro automoto oggi pomeriggio a Pergine, Valdarno in via del Canneto. Siamo in Valdarno sul posto un'automedica e un'ambulanza della misericordia di San Giovanni Valdarno e anche l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche le forze dell'ordine è rimasto ferito un uomo di 45 anni trasportato con il Pegaso all'ospedale delle Scotte di Siena in codice rosso. È iniziato dicembre ma le temperature sembrano essere invece di primavera. Oggi la massima ad Arezzo ha toccato i 22 gradi. Le stazioni meteo del centro funzionale regionale della Toscana hanno evidenziato temperature appunto oltre i 18 gradi in buona parte. dell'Aretino un meteo quasi impazzito perché per la giornata di domani c'è invece un altro codice giallo emesso dalla Sala di Protezione Civile regionale per rischio idraulico nel reticolo principale fino alle 18 del 2 dicembre. E adesso parliamo della polemica che si è scatenata nell'Aretino per il no a Rigutino quale dislocazione della stazione dell'alta velocità vince Creti. Creti meglio di Rigutino per la stazione alta velocità medio Etruria. È questa la netta presa di posizione che arriva dal tavolo tecnico nazionale che si è svolto a Roma al Ministero delle Infrastrutture. Nel corso dell'incontro è stata esaminata la relazione a cui era stato dato il compito di indicare secondo parametri oggettivi il luogo più adatto per la realizzazione di una fermata dell'alta velocità tra Toscana ed Umbria. Tre le possibilità sul tavolo, Rigutino, Creti o il potenziamento di stazioni esistenti come quelle di Arezzo o Chiusi. Rete ferroviaria italiana adesso si espressa a favore di Creti nel comune di Cortona. Immediate le reazioni alla notizia, tra le prime quella del comitato Sava che aveva già raccolto migliaia di firme e che adesso ha chiesto alla Premier Giorgia Meloni di intervenire. Perché si approfondiscano le reali motivazioni di un luogo totalmente inadeguato, non lo dice il comitato soltanto, gli studi di tre università e i bacini di utenza che non possono essere trascurati unitamente a tutti i presupposti oggettivi che oggi ancora l'Europa, più di ieri, chiede al nuovo sistema di mobilità sostenibile. Una decisione non condivisa nemmeno dall'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli a cui hanno fatto eco i consiglieri regionali Aretini, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis critici sulla decisione definita politica. Durissimo anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che sottolinea come Creti sia la scelta giusta per non fare l'opera. Siccome la stazione dell'alta velocità viene realizzata comunque in territorio toscano, l'infrastruttura di trasporto nazionale ha comunque necessità di condividere le scelte con la regione nel territorio della quale va a collocarsi questa infrastruttura. Siccome la regione toscana si è espressa abbastanza chiaramente circa il fatto che la localizzazione preferibile per n motivi che non sto qui ora a ricordare è rigutino e sarà un po' difficile che accetti che venga fatta a Creti. Quindi questa è una scelta miope o veramente puntata e decisa per non fare la stazione alta velocità. Grazie al governo Meloni, la stazione a Creti, l'aeroporto nel Falterona e il porto a buon riposo ironizza il coordinatore retino del Partito Democratico Matteo Bracciali appunto sulla questione dell'alta velocità il sindaco Ghinelli e Macri dice Bracciali non hanno nessun peso sulle vere scelte strategiche che riguardano lo sviluppo sociale ed economico della città. Ribadiamo oggi con ancora più forza che questa stazione lontana dalla città non ha senso di esistere e faremo tutto quello che è possibile affinché non venga mai realizzata quella che appunto sarebbe secondo Bracciali una inutile e dannosa cattedrale nel deserto. Una buona notizia che arriva dal mondo del lavoro, l'Ivv oggi ha riaperto il suo punto vendita per però vedere la riapertura anche della fabbrica e quindi della vetreria dovremo aspettare la prossima estate. Il servizio. Stiamo ricevendo grandi attestazioni di stima e anche ordini importanti e una novità divertente da condividere interessante è che i sottopiati da Ivv saranno sulle tavole del prossimo G7 che si terrà in Puglia a breve. Ad annunciarlo questa mattina è stato Diego Toscani, amministratore unico della Ivv Italia in occasione della riapertura del punto vendita della storica vetreria a San Giovanni Valdarno. E' un primo passo dell'era Toscani, il manager che attraverso la società Tradizioni Associate ha affittato il ramo d'azienda della fabbrica San Giovannese. La ripartenza dello stabilimento però sarà più lunga e complessa, la vetreria è ferma da oltre un anno. La fabbrica, ci diceva, è davvero in condizioni, le ha usato un termine, insomma, disastro. La fabbrica purtroppo sì perché la vetreria quando viene spenta ovviamente tende a collassare in molte parti e quindi l'intervento da fare per ripartire è abbastanza impegnativo. Però non ci spaventiamo davanti a questo. La nostra intenzione è ripartire con il vetro pressato entro la prossima estate e con il soffiato entro la fine dell'anno. In tutto 26 i lavoratori rispetto ai 57 del 2021 che fanno parte di questa nuova storia dell'Ivv. Al momento dell'arrivo del gruppo Toscani le maestranze erano scese a 34. Per coloro che non sono stati assorbiti ci saranno gli ammortizzatori sociali. Abbiamo mantenuto 26 collaboratori in servizio e stiamo inserendo alcune nuove figure che erano mancanti nell'organigramma precedente, legate soprattutto alle attività di direzione e stabilimento, di finanza e di marketing e commerciale. Perché il traino dell'azienda parte proprio dal commerciale e dal marketing. Contiamo di arrivare a breve a una trentina di persone occupate e poi se saremo assistiti anche un po' dalla fortuna, dalla situazione più generale speriamo di poter incrementare ulteriormente la forza lavoro. Dobbiamo dire però che la politica si è stretta attorno a questa crisi. Questo va riconosciuto? Sì, assolutamente sì. Noi come Consiglio Comunale abbiamo non solo un'amministrazione comunale ho seguito insieme al consigliere regionale Fabiani la crisi di IWV ma anche il Consiglio Comunale ha seguito in maniera importante tutta questa vicenda. C'è stato proprio più di un anno fa anche un Consiglio Comunale aperto in seduta straordinaria proprio nella sede dell'IWV, proprio perché è la storia di San Giovanni Valdano. Quindi il traguardo raggiunto oggi è per noi veramente un traguardo importantissimo. Rimaniamo a parlare di lavoro perché oggi c'è stato il Summit del gioiello. Ad Arezzo questa era la terza edizione. Giovani, sinergie e sostenibilità sono stati appunto i temi al centro di questo appuntamento ospitato all'Arezzo Fiere e Congressi. Il futuro è stato proprio il protagonista indiscusso della terza edizione dell'evento Aretino che ha visto diversi momenti dedicati alle nuove generazioni e al loro avvicinamento al settore. Tra questi la presentazione di un progetto di confartigianato per l'erogazione di borse di studio del valore di 500 euro a favore degli studenti più meritevoli delle scuole medie del territorio che nel 2024 sceglieranno percorsi formativi in campo orafo. Un nuovo store di Estra è stato aperto in zona Giotto. Ma io sono appena arrivato, oggi è il secondo che inauguro, l'altro giorno eravamo a Montepulciano e dirò anche con molta soddisfazione. Io sono dell'idea che aziende come queste, in un momento in cui noi cittadini siamo assaliti anche telefonicamente tutti i giorni da un mercato impazzito, puntare sulla vicinanza, la presenza sul territorio, mettere la faccia diventa un valore aggiunto per la notte azienda. Nuovo store Estra ad Arezzo è stato inaugurato nelle scorse ore al numero 34 di Piazza Giotto. Un motivo di grande soddisfazione quando si aprono ulteriori store. Siamo stati il primo operatore nazionale ad aprire questi luoghi di incontro con la clientela dove ci si può chiarire, dove si può accogliere le nostre proposte. Sappiamo quanto sia faticoso sostenere la bolletta energetica in questo periodo, sia per famiglie e imprese, è importante distinguersi con questi interventi che rafforzano la prossimità di un'azienda che crede nel rapporto con il territorio. Grazie anche a partner, agenti come la società Meta che è di qui dell'area retina esprimiamo questo rapporto di vicinato che ci deve distinguere nel mercato. Estra non si deve scegliere soltanto perché ti dà un buon servizio, ha un buon costo, ma si deve scegliere perché è l'agenzia energetica di prossimità, è la tua azienda di riferimento territoriale. E questo è uno di quegli elementi che rafforza questo elemento di distinzione commerciale. Nello store che si aggiunge a quello di Via Garibaldi è possibile sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, Ma questi nel futuro diventeranno punti di riferimento anche per le comunità energetiche. Sì, c'è la possibilità appunto oggi che i decreti attuativi sono stati finalmente approvati dalla comunità europea di far partire le comunità energetiche rinnovabili e quindi questi punti di prossimità possono essere uno stimolo ulteriore al quale i cittadini si possono rivolgere proprio per avere informazioni e per divulgare come funziona e quali vantaggi si possono avere aderendo alle comunità energetiche. Ultimo appuntamento per il 2023 con il mercatale di Arezzo che in occasione del duplice appuntamento della Fiera Antiquaria della città del Natale in questo weekend, sabato 2 e domenica 3 dicembre, sarà sotto i portici di Via Roma dalle 9 alle 19. Saranno presenti 12 aziende a retine con i loro prodotti di stagione e oggi primo dicembre è anche la giornata mondiale contro l'AIDS. Esiste dal 1986 per ricordare tutte le persone che non ci sono più a causa di questa malattia ma soprattutto per fare informazioni. Prevenzione, sensibilizzazione, educazione all'affettività e alla sessualità consapevole ma anche tentare di abbattere lo stigma sociale, la regione toscana ha così deciso di celebrare la giornata mondiale per la lotta all'AIDS nelle scuole. Ad Arezzo lo ha fatto all'ITIS Galileo Galilei una mattinata con interventi di esperti a confronto con gli studenti degli istituti scolastici. Veicolando questa informazione nelle giovani generazioni si spera che i prossimi dati sull'invenzione di HIV abbiano un decremento. Toscana e Lazio sono le regioni italiane con incidenza più elevata di diagnosi di HIV e AIDS. La regione toscana è la seconda regione perché c'è un'incidenza di 4 casi su 100.000 residenti. La fascia di età si è alzata, va dai 30 ai 39 anni. È una trasmissione sempre sessuale e quindi il nostro impegno è sempre quello di parlarne. Ruolo fondamentale in tema di prevenzione è quello dei consultori che ospitano anche uno spazio giovani. Sono spazi usatissimi, i ragazzi lo conoscono. Questo perché viene fatto da tutte le zone di stretto anche un grosso lavoro all'interno delle scuole. Sulla scuola media superiore è la formazione dei peer, quindi dei pari. E saranno loro, come in questa giornata, a restituire ai loro pari o ad altri il loro sapere. Cambia molto perché da un adulto viene percepito come un insegnamento, una lezione. Da un coetaneo invece è proprio il consiglio di un amico, di un fratello maggiore, di qualcuno che in quelle cose c'è passato come te e può riportarti una sensazione, un feedback vero e che tu puoi condividere e comprendere bene. Non solo Arezzo, in questo fine settimana il Natale si accende in tutti gli angoli della provincia Aretina, da Sansepolcro dove saranno inaugurati alcuni speciali mercatini. È acceso ovviamente l'albero di Natale a Cortona dove nel pomeriggio di domani, sabato 2 dicembre alle 17, è previsto l'avvio dell'iniziativa Natale di Stelle. Oltre 50 le iniziative che sono in calendario, ovviamente ne parleremo nei prossimi giorni, nel nostro telegiornale, per arrivare invece poi al Valdarno dove a Laterina domenica 3 prenderà il via la 25esima edizione della mostra concorso Presepi. A partire appunto dal 97 l'antico centro storico di Laterina si è trasformato in un luogo magico ospitando una straordinaria rassegna di presepi. Ci sono anche in questo caso tantissime iniziative, due che vi vogliamo segnalare. L'8 dicembre insieme al pilota Freestyle David Rossi e al suo team i ragazzi diversamente abili potranno vivere l'emozione di salire su una moto. L'evento si chiama proprio Metti in moto e il Natale esiterà dalle 11 alle 17, sabato 9 dicembre. Poi invece alle 17.30 la Santa Messa in propositura e a chiusura di questa giornata alle 21, lo spettacolo con la scorrida presso il teatro di Laterina. Saranno presenti anche le telecamere di Arezzo TV domenica 10 dicembre e poi la premiazione ovviamente dei Presepi. Adesso invece parliamo del Polvarone che ha recitato per Casa Tevenin. Per non consumare il petrolio, pensate un po' il risparmio che c'era, andava a lavorare alla finestra, al lume di luna. Storie del passato, filastrocche, giochi e antichi mestieri. Vedete, grosse. Sono stati gli attori della compagnia teatrale Il Polvarone ad intrattenere i più piccoli, un'iniziativa che rientra nel programma di Natale a Casa Tevenin. Vogliamo riproporre quelli che sono i momenti, che sono stati i momenti della nostra infanzia, dei nostri nonni, soprattutto sottolineare quelli che sono stati i vecchi mestieri, i vecchi oggetti di una volta che sono andati completamente in disuso. E tutto questo lo facciamo come nonni, cioè lo vogliamo raccontare alle nuove generazioni che ovviamente non conoscono un macinino fatto a mano, ti ricordi, oppure che ne so, il prete per scaldare il letto e tante altre cose. La Roberta in questo chiaramente è maestra, molto brava, e quindi proponiamo questi appuntamenti in più serate e ci consentono di riscoprire un po' le nostre tradizioni, i nostri ricordi. A noi ci fa piacere, come i nonni, è bello incontrare questi ragazzi che rimangono sorprendenti. Una bambina, ricordo, ci disse, raccontando le cose che non c'erano più, quando si disse che telefonino, il telefonino non c'era mica, il telefonino no, rimase sconcertata, era incomprensibile per lei che non ci fosse il telefonino. E questo credo che sia una bella cosa. I nonni della Compagnia del Polvarone torneranno il 16 e il 17 dicembre in piazza San Domenico. E un altro weekend di eventi speciali per il Natale di casa Tevenin sta per arrivare perché proprio nel fine settimana di sabato 2, domenica 3 dicembre sarà possibile trovare già il richiestissimo calendario 2024 della giostra del Saracino, esattamente al Barber College e poi nei vari punti organizzati, come dicevamo, per la Fondazione Tevenin. Infine un bel momento musicale con il concerto dell'insieme vocale Tour d'On diretto da Stefania Barbieri che proporrà un canto per il Tevenin, appuntamento domani alle 18 nella Basilica di San Domenico. E proprio Sandro Sarri sarà uno degli ospiti della nostra trasmissione che si intitola Musica e Cabaret, un modo insomma per farvi compagnia in queste feste natalizie. Questa è, come dicevamo, la seconda edizione di una trasmissione assolutamente di intrattenimento che mischia appunto la buona musica con le risate. Il Cabaret quest'anno ha un'accezione particolare perché siamo ospiti dei centri di aggregazione sociale del territorio aretino, in particolare il centro sociale Tortaia e Fiorentina che ovviamente ringraziamo per la loro ospitalità. Gli ingredienti di questa seconda edizione sono davvero tanti, dalle canzoni del trio Beppe, Marco e Robi a Mireno Scali, quindi per la parte del Cabaret, insieme ad Andy Bellotti con le sue simpaticissime imitazioni e ancora sempre per il Cabaret, anzi in questo caso è più teatro, i Tortaia and Friends. Allora non perdetevi questa prima puntata, proprio questa sera alle 21 di Musica e Cabaret e poi a partire da oggi restate con noi ogni venerdì appunto per la nostra trasmissione. E siamo allo sport, Arezzo Lucchese c'è attesa per il Dermi, sentiamo le parole di Mr. Indiani. Prendiamo di fermarsi a vent'anni, sarebbe il momento giusto dopo i vent'anni e ci sta una vittoria. Faremo di tutto per vincere, sapendo che come tutte le partite a questo livello sono estremamente difficili. Il precedente del Coppa Italia magari fa testo fino a un certo punto, però è una squadra con qualità, una squadra che ha perso anche sabato immeritatamente, che ha passato il turno in Coppa Italia, nelle quarti di finale, è una squadra che ha molta qualità, c'è molta qualità, bisogna essere bravi a limitarle a questa qualità. Io credo che noi siamo in linea totalmente, ci mancherà un punto o due, è chiaro con due punti in più, uno magari no, ma con due punti in più la Serie A era molto molto diversa, ma però io credo che siamo in linea con quello che pensavamo e diciamo come sono andate le gare possiamo anche avere un pizzio di, come si dice, di rammarico perché lo potevamo avere davvero questo punto o due in più con le prestazioni che abbiamo fatto. Manca un po' di buona sorte. È un pizzio sicuramente anche quella, un pizzio di buona sorte, sicuramente credo averla avuta una volta sola in tutte le 15 partite fatte. Una volta sola su 15, insomma, è un po' poco. Per le ragazze dell'Arezzo calcio femminile una prima parte di stagione non certo brillante traccia un bilancio. Mr. Mike. Durante un campionato, una stagione, veramente dall'inizio fino alla fine è sempre un tunnel perché ci sono momenti durante la stagione, non solo per noi, ma per tutte le squadre che sono in momenti di difficoltà, in momenti alti, diciamo, e noi ho avuto la sensazione dall'inizio dell'anno che siamo stati preparati anche da un punto di vista atletica, con tutto il lavoro del prof, tatticamente, tecnicamente siamo stati bravi e molto competitivi nelle prime partite. Poi, purtroppo, i risultati non sono venuti, per ora abbiamo visto, sì, domenica scorsa, che abbiamo messo in 90 minuti tutto questo lavoro che abbiamo fatto in tre mesi e mezzo. Una partita bellissima per noi, anche mentalmente, ci ha aiutato molto e ora si deve continuare così, in questa maniera. Era qualche partita che non riuscivo a fare gol e ne ho fatti tre insieme, quindi sono contentissima. Soprattutto una cosa è sbloccarsi, che è importante. Sì, per un attaccante è fondamentale, soprattutto all'inizio si riesce subito a fare gol, poi tutte le giocate gli vengono più leggere, diciamo, più libero mentalmente. Abbiamo preparata benissimo perché, insomma, tatticamente ci siamo messi molto bene il primo tempo e giocavamo molto sulle ripartenze. Infatti, tanti gol sono arrivati con la palla dietro la linea della difesa e quindi siamo state molto brave. Poi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo avuto anche un buona gestione della palla, insomma, siamo state molto brave a tenere il risultato. Siamo andate in campo con la voglia di dimostrare chi siamo, di esprimere il nostro potenziale in campo, di applicare comunque le idee che il mister ci propone durante l'allenamento. Siamo andate convinte e si è visto. E i colori amaranto invece del basket. L'AMEN BC Servizi ospita domenica al Palasport Estra, la Cantini Lorano, Firenze. Domenica 3 dicembre alle 18, il Palasport Estra ospiterà l'ultima giornata di andata del campionato di Serie B. L'AMEN BC Servizi Arezzo sfiderà la Cantini Lorano-Firenze per quello che è diventato un classico delle ultime stagioni. La legnaia si presenterà ad Arezzo in forte ripresa, reduce da due successi consecutivi che l'hanno riportata a ridosso delle prime in classifica. Guidata in panchina da coach Zanardo, Firenze vanta il terzo miglior attacco. Il controllo del ritmo di gara sarà sicuramente il lago della bilancia di questa sfida, visto che la legnaia predilige come prima soluzione il gioco in velocità. L'AMEN BC Servizi è chiamata ad una prestazione di alto livello per provare a chiudere il girone di andata con il sorriso, ripartendo dalle situazioni positive viste nella trasferta di sabato scorso a Empoli. L'appuntamento per tutti i sostenitori amaranto è dunque fissato per le 18 di domenica al Palace Portestra per la sfida tra AMEN BC Servizi Arezzo e Cantini Lorano-Firenze, che nelle ultime stagioni ha regalato spesso partite molto emozionanti e combattute. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma non cambiate canale perché, come ci siamo detti durante il telegiornale, questa sera c'è la prima puntata di Musica e Cabaret, un modo per farvi compagnia da adesso e per tutte le festività natalizie, ogni venerdì in onda alle 21 su Arezzo TV. Grazie per l'ascolto, arrivederci. Purtroppo, no scherzo.